Un innovativo bar didattico dove 54 studenti serviranno e venderanno prodotti da forno da loro realizzati, dando vita a una vera e propria attività di ristorazione. Ha aperto ufficialmente al pubblico, con una giornata di festa, ristoro e assaggi, Good Bakery, la nuova impresa formativa costituita presso il Centro di Formazione Professionale Pertini di Afol, Monza e Brianza, a Seregno. Qui trovate i ragazzi del nostro quarto anno che da domani mattina saranno operativi, grazie ovviamente al coordinamento anche dei docenti e potranno quindi vendere al pubblico e al tempo stesso fare esperienza nell'indirizzo che hanno scelto, quindi quello della panificazione e pasticceria. Quindi ci auguriamo che questo primo periodo di start-up poi possa dare vita a ulteriore progettualità. Un'occasione di qualificazione professionale per gli studenti nel settore della panificazione e della caffetteria, ma anche per tutto ciò che significa gestire una piccola impresa, dai contratti all'organizzazione del lavoro e dei conti. È un'isola formativa a 360 gradi, quindi che non interessa solamente quello che è la produzione del prodotto finito, che sono le panificazioni, i dolci eccetera, ma è molto di più quelli ragazzi. Quindi è un prepararli a essere inseriti subito nel mondo del lavoro, con tutte le conoscenze necessarie, sia dalla parte amministrativa, sia dalla parte poi invece quella del prodotto finito. Good Bakery rientra nel progetto di rinnovamento complessivo della sede. A breve inizieranno anche i lavori per i nuovi spazi del centro per l'impiego di Seregno e per uno spazio polifunzionale del comune, destinato a diventare centro di aggregazione giovanile.